Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura? Parliamo di questo su Fan Week con me, io sono Elena. Il Paradiso delle Signore potrebbe chiudere e su questa potenzialità, allarmati da questa potenzialità, maestranze, fan e attori hanno organizzato un sit-in di protesta davanti alla sede RAI di Viale Mazzini. La protesta, accompagnata anche da una petizione al grido di non chiude al Paradiso delle Signore, era indirizzata ovviamente alla direttrice di RAI 1 Teresa De Santis, al presidente della RAI Marcello Foa e alla responsabile di RAI Fiction Eleonora Andreatta. Il Paradiso delle Signore è una serie tv ambientata negli anni 60 in un grande magazzino, si sta parlando ovviamente ambientata in Italia, negli anni 60, è per la maggior parte realizzata negli studi videa a Roma e dopo due stagioni trasmesse in prime time è stata spostata nel daytime della rete Ammiraglia, ovvero intorno alle 15 e 40, e tra l'altro ha registrato anche degli ottimi ascolti rispetto al programma che la precedeva in quell'orario. Tutto faceva ben sperare, ma in realtà pare che gli eccessivi costi di questa fiction abbiano o ne stiano decretando, anzi, la chiusura. Chissà se la quarta stagione verrà realizzata del Paradiso delle Signore, nel frattempo il setting di protesta fatto da attori, fan e maestranze della fiction ha attirato l'attenzione su di sé e vedremo quindi se ci saranno dei risvolti.